buongiorno amici di nova news 24 al grande fratello vip continuano le male lingue soleil sorgi questa volta lascia stare onestini e si scaglia chiaramente conto antonella fiordelisi soleil sorgi antonella fiordelisi danno vita ad un ennesima guerra grande fratello vip 7 il botta è risposta proprio al veleno soleil sorgi lancia una frecciatina su antonella il grande fratello vip vede comunque due rivali soleil e fiordelisi così come trappella dalla nuova puntata del gfvip party web format parallelo del grande fratello vip 7 che vede al timone l'opinionista sostituita di sonia bruganelli nelle ultime due puntate del reality della casa soleil sorgi nel commentare risvolti della nuova diretta del grande fratello vip 7 dove ha coperto il ruolo di neo opinionista replicato piccata chi taccia di non essere super partes anche il riferimento dello scontro registrato con l'ex storico luca onesti oggi commenterò dei gossip su me stessa ho visto che nella casa in questi giorni hanno parlato di un ex vipona in questo articolo si legge una delle protagoniste dell'anno scorso meravigliosa con un'impeccabile dialettica e una chioma da fare invidia e proprio lei soleil ancora al centro delle polemiche sorge contro luca onestini che gli dà del grande giocatore l'opinionista difesso nikita pelisson non ero così contro luca precisa soleil sono stata anche troppo gentile difesso nikita pelisson ma non sono di parte anche perché non sono l'unica l'ottanta per cento di voi la pensa come me credo di essere stata fin troppo oggettiva e l'intervento poi prosegue con un attacco sferrata un'altra concorrente ovviamente stiamo parlando di antonella fiordelisi come precisato poc'anzi poi c'è un altro articolo antonella fiordelisi che dice dopo la vittoria al televoto si grazie al padre ops no oddio scusate non l'ho detto comunque torniamo a noi antonella fiordelisi dopo la vittoria al televoto dice soleil sorgi teme che le rubi il posto ok questa notizia nemmeno la commento ma se volete proprio un commento no non temo nulla c'è posto per tutti ognuno deve trovare il proprio buona fortuna antonella quindi tra le righe la sorge dice qualcosa diretto proprio ad antonella fiordelisi insomma soleil sorge ribadisce la sua opinione secondo cui antonella avrebbe trionfato dall'ultimo televoto del reality come preferita del pubblico grazie allo zampino del padre stefano fiordelisi ma non è tutto all'attacco della fiordelisi che a sua volta accusa soleil di temere il ruolo di first lady sulle vicende del grande fratello vip la sorgi chiarisce di non temere affatto la presenza in tv di antonella come detto amici di nova news 24 mi raccomando vogliamo sapere la vostra opinione sulla faccente intanto diteci cosa ne pensate se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nova news 24